Ricordo ancora quando Jean François mi disse di lasciare il paese, mi disse anche che forse avrei trovato le edizioni 4k che cercavo in un nuovo paese, quindi presi il primo aereo che mi capitò tra le mani e mi buttai in questa nuova avventura. Chissà se la vita mi avrebbe aiutato a spendere più soldi per le edizioni 4k limitate, chissà. Beh sicuramente è un inizio alternativo per le 4k news of the settimana, cioè che inquadratura, cioè grading l'ho fatto io col profilo colore piatto dell'iPhone 15 Pro Max, cioè altro che creator. Comunque ragazzi ben ritrovati e anche ragazze ben ritrovati alle 4k news of the settimana. Io l'avevo detto che registravo il video quando potevo e dato che andrò a fare un weekend pazzerello con i miei amici, oggi è giovedì e posso registrarlo oggi, quindi se c'è qualche news giovedì pomeriggio, venerdì o sabato o domenica mattina ve le ribeccate le notizie la settimana prossima, ok? Così è stato fatto e detto. Ma partiamo con le news! Uscirà in America il 9 aprile King Kong il film del 76? 76? 77? Prodotto da De Laurentiis con Jeff Bridges e Jessica Lange che è già uscito in Europa per la Studio Canale, io l'avevo già comprato, non l'ho ancora visto, recensito, ma l'ho già comprato, uscirà il 9 aprile per la Paramount in Steelbook in America e conterrà sia la Teatrical Cut che il TV Cut. Dato che anche nella mia versione europea Studio Canale ci sono tutti e due, ma il TV Cut è versione 1080p, non 4k, quindi chissà se la Paramount ha fatto anche il 4k per la TV Cut. Per me no, non c'è ancora nessun dettaglio tecnico dell'edizione ma per meno, sarà sempre 1080p. Comunque molti nei forum dicevano che speriamo che sia un altro grading e non sia quello della Studio Canal perché è tutto verde, sì ho visto qualche pezzettino ed è tutto verde, ma da cosa ho letto, da cosa avevano detto? Avevano preso il video proprio il restauro della Paramount fatto dall'immagine ritrovata in Italia e il grading era già stato fatto dalla Paramount, quindi molto probabilmente sarà uguale il grading a quello della Studio Canal, quindi tutto verde, ma quando uscirà, appena spunteranno fuori le recensioni, ne sapremo di più se cambiare edizione e ottenerci la Studio Canal Extra non si sa ancora niente. Ragazzi, proprio sono news, buttateli così. Poi cosa uscirà per la Kino Lorber prossimamente in e out, il film di Frank Oz che ha anche doppiato Yoda e anche tanti altri personaggi famosi con Kevin Kline uscirà in 4K per la Kino Lorber, Master 4K scan dei negativi originali 35 mm e a me è sempre piaciuto in e out, sinceramente era uscito in DVD e del tempi del DVD che non lo riguardo, ma a me è sempre piaciuto, è sempre piaciuto, poi mi ricordo c'era Tom Selleck senza Buffy e io quando lo guardavo in Magnum P.I. poi lo vedevo in in e out senza Buffy. Tom Selleck, ma che cosa stai facendo? Comunque prossimamente per la Kino Lorber e il 27 febbraio cosa uscirà per la Vineguard Syndrome? Uscirà I guerrieri della palude silenziosa, il film di Walter Hill con un nuovo Master 4K tratto da Interpositivo, HDR 10, ah in e out di prima avrà il Dolby Vision, scusate, all'interno come extra avrà 5 featurette e un nuovo commento, quindi se volete un altro film in 4K di Walter Hill, 27 febbraio, scusate, Vineguard Syndrome. E prossimamente cosa uscirà per la Screen Factory? di questo sono molto contento. Uscirà The Faculty, il film con Elijah Wood, un sacco di giovani attori, regia di Robert Rodriguez, c'era anche Robert Patrick, il T-1000 se ricordo bene, sì, a me è sempre piaciuto questo film e dai tempi della VHS che non lo riguardo, sono tempi lontani, lontani che non lo riguardo, ma sarei davvero contento di riguardarmelo in 4K, quindi prossimamente per la Screen Factory, Speriamo, anche in Italia con l'italiano, speriamo, ci tocca sempre sperare. Ma cosa uscirà anche per la Shout? Prossimamente uscirà Rolling Thunder che da noi è arrivato almeno in DVD, il film con Tommy Lee Jones e scritto da Paul Schrader uscirà in 4K per la Shout prossimamente. Noi siamo fermi al DVD e speriamo che qualcuno almeno faccia un upgrade almeno in 1080p. Speriamo, speriamo, io non l'ho mai visto, me ne hanno sempre parlato bene con un giovanissimo Tommy Lee Jones e speriamo ragazzi, bisogna sempre sperare. Ma cosa uscirà il 26 marzo per la Kino Lorber? Uscirà Clint Eastwood e Lee Marvin che ballano nella ballata della città. Senza nome, come extra avrà solo un nuovo commento, scandala, pellicola originale, 35 mm negativi, nuovo Master 4K in Dolby Vision. Kino Lorber è un film di Clint Eastwood che mi manca, mi sembra che sia un musical. Ragazzi sono ignorante su questo film perché ne ho sempre sentito parlare ma non l'ho mai visto, è uno dei tanti di Clint Eastwood che non ho visto, quanti minchi hanno fatti Clint Eastwood di film e mi piace anche Lee Marvin, quindi non ci fosse dogana spedizioni che un film di 20 e qualcosa euro portato dal dollaro portato in Italia mi costa sui 50 euro non fossero questi prezzi un po' proibitivi. Tanti film della Kino, della Shout, della Scream io me le recupererei, anche perché tanti sappiamo già che in Italia non arrivano, quindi oh vabbè ragazzi, vabbè. Ma purtroppo una brutta notizia, leggendo nei forum qualche notizia di qualche sito estero, i piani originali della Kino di fare il 4K di giù la testa in America a Fistful of Dynamite, i piani sono stati cancellati e non faranno più un'edizione 4K di giù la testa, quindi arriverà anche da noi una nuova versione 4K, un restauro fatto da noi, bla bla bla, blim blum blam, bla bla bla, chi lo sa, chi lo sa, non si sa, la Kino ha cancellato i suoi piani per fare giù la testa in 4K e tocca sperare che da noi magari qualcuno lo porti, insomma, ne manca ancora qualcuno in 4K di Leone e sarebbe bello averli tutti in 4K, sarebbe veramente bello. Ma notizia! Vi avevo detto l'altra settimana che non si sapeva niente di The Abyss e vedete che da un giorno all'altro spunta fuori la notizia, da noi arriva ad aprile The Abyss, quindi state tranquilli che arriva da noi, ma l'ho già detto nelle uscite, no, lo dirò perché deve ancora uscire il video, delle uscite del mese, ma la Collector di Avatar 1 non arriva da noi, quindi toglietevela dalla testa, accontentatevi della Remastered, cioè ha il grading Dolby Vision e il disco, tutto il resto è uguale, accontentatevi di quella perché quella con le edizioni estese non arriva. Chiudiamo le 4K News of the Settimana invitandovi a iscrivervi ai canali Telegram e Whatsapp di IntoThe4K poiché sono partiti i preorder di Aquaman e il Regno Perduto che dovrebbe uscire, non c'è ancora una data ma dovrebbe uscire a marzo e dovrebbe uscire a marzo anche Willy Wonka, ma sì perché esce a febbraio all'estero, quindi da noi arrivano a marzo tutti e due, sono sicurissimo che esce in tre steelbook diverse. Ad oggi ragazzi io ho messo i link ma ci sono delle foto in giro di varie steelbook in Francia, Germania, America eccetera eccetera, ma che cosa arrivi da noi ad oggi non si sa ancora, almeno io non ve lo so dire. Appena Amazon applicherà o altri store online applicheranno una determinata immagine della steelbook a quel preorder, io ve lo dirò, ve lo dico nei canali Telegram e Whatsapp così sarete pronti per ordinare eccetera eccetera. Ma quale preorder è anche partito? È partito il preorder del film di Woody Allen, Un colpo di fortuna, Cup de Chance, come cazze che si chiama? Comunque è partito il 4K di quello, della Plyon, è partito il preorder anche di Silent Night, l'ultimo film di John Woo che l'avevano pubblicizzato in streaming, io avevo anche commentato voglio il disco 4K e arriva anche il disco 4K, arriva ragazzi e arriva anche Truman Show a marzo, la Paramount barra Plyon ce lo porta anche da noi con l'italiano, ci mette l'italiano dentro, grazie, grazie tante e arriverà anche a marzo vacanze romane, sono partiti tutti i preorder nei miei canali Telegram e Whatsapp, dateci un'occhiata, ad oggi vacanze romane c'è ma è ancora bloccato, però c'è ragazzi entrate nei canali, io appena tac sbloccano, appena riesco ovviamente ragazzi, se non sto facendo altro sono a lavoro, state collegati ai canali perché io vi dico tutto subito, ma queste sono le 4K news di questa settimana, io vi ringrazio di essere stati qui con me fino a questo momento e anche sempre nei canali Telegram e Whatsapp, sto facendo una cosa simpatica che vi ho chiesto se volevate farla, ogni due giorni metterò una categoria, partendo non dalle più scarse, ma miglior corto animato, miglior suono eccetera, fino a salire e ad arrivare i migliori attori e il miglior film, così ogni due giorni potrete fare il sondaggio sia da Telegram e Whatsapp e arriviamo ogni due giorni con le 23 categorie degli Oscar, arriviamo giusti giusti alla premiazione del 10 marzo, poi ci faccio un videino e dirò la maggioranza di voi che cosa ha votato, cosa avevo votato io, ci facciamo un videino così dai un quarto d'ora, tanto per fare qualcosa insieme ragazzi, mi piace portarvi nel canale, fare qualcosa insieme, anche fare un video e dire che cosa voi avete votato, come i film top 20-23, mi è piaciuto che mi abbiate detto voi che cosa volevate, e sarebbe bello dire ognuno di voi che cosa ha votato, però ragazzi bisogna fare la maggioranza, se no qua non si finisce più, ma comunque grazie sempre per il supporto ragazzi, e l'ho già detto, se esce qualche news da giovedì oggi fino a domenica, le metterò nella settimana prossima, e noi ci rivediamo in un prossimo episodio di Into the 4K, quindi sayonara a tutti e bye bye. Grazie.